buongiorno a tutti allora devo fare i pronostici per le tre partite che si giocheranno domani e domenica quindi quelle delle 6 quelle delle 20 e 45 di sabato e quella della 12 30 di domenica quindi partiamo con udinese sassuolo che si giocherà domani alle 18 e direi che l'uno ci può stare molto bene poi volendo uno ci può aggiungere un x però direi che l'udinese dovrebbe riuscire a vincere non senza difficoltà col sassuolo però per sicurezza se uno ci mette una x non succede mica niente partita delle 20 e 45 spal juventus 2 fisso perché ahimè la juve è uno schiaccia sassi fa il suo compitino il suo gollettino lo fa sempre 1 a 0 2 a 0 3 a 0 perché tanto poi quando segnano poi è automatico ma non è che si sprecano più di tanto anche perché poi comunque hanno la partita con real madrid quindi non vorranno sprecare energie quindi una volta che vanno in vantaggio a rivederci grazie veniamo alla partita di alle 12 30 sandoria inter allora io come sapete non amo fare i pronostici sull'inter però ahimè devo mettere due fisso perché o si vince o si vince cioè c'è poco da fare in più questi hanno preso quattro pere dal crotone quindi è tassativo vincere a genova poi se perdono vabbè hanno perso siamo alle solite eccetera però una squadra che mi prende quattro pappine dal crotone per noi è obbligatorio vincere non possiamo esimerci cioè poi sarà dura e lo so benissimo genova è un campo malefico per noi facciamo una fatica bestia però signori se questi hanno preso quattro pappine dal crotone è ad obbligo segnargliene almeno due siamo l'inter l'inter vale quattro volte il crotone con tutto il rispetto per il crotone ma cioè va bene tutto però ci siamo stancati ormai sono tre mesi che vanno avanti a pareggi e a vittorietta pure la pena sconfitte è ora di fare due mesi da prime tre mesi che abbiamo fatto prima quindi sandoria interis due non me ne vogliano i tifosi noriani poi probabilmente sbaglierò perché come al solito faranno i fessi però ripeto sandoria inter noi abbiamo l'obbligo di non perdere almeno di non perdere poi se vinciamo tanto di guadagnato ma c'è una squadra che ha preso quattro pere dal crotone almeno due glieli devi fare punto e basta vedremo cosa mi direte poi domenica perché poi farò il video per le altre partite ciao